Carlo Ancelotti è nella storia, è il primo tecnico in assoluto a vincere tutti i titoli nazionali nei top 5 campionati europei, ovvero Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Ma iniziamo dalle sue origini, dove nasce a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, il 10 giugno del 1959, inizia la carriera del giocatore proprio nella squadra del suo paese. Poi arriva il Parma e fa il suo esordio nella stagione 1976-77. Il vero cambio c'era nella stagione 1978-79, in C1 con il Parma, dove il allenatore Cesare Maldini lo schiera come trequartista e nelle sue 33 presenze fa 5 gol e porta la squadra allo spareggio per salire in B. E con questa doppia decisiva contro la Triestina porta la squadra parmense nella serie cadetta. In proprio in quel giorno ci furono il presidente della Roma, Dino Viola, il SIDOM e il DS Luciano Moggi, a seguirlo. Ma provare ad accapararselo fu l'Inter, che addirittura gli fece giocare un amichevole nel maggio del 1978 contro l'ERTA Berlino. Ma alla fine non ha ansie e non riescono ad accapararselo perché alla fine il proprio presidente Dino Viola lo compra per 750 milioni di lire, metà del cartellino. Alla Roma fa otto stagioni vincendo quattro Coppa Italia e uno storico scudetto nella stagione 1982-83, ma poi nella stagione 1987-88 il Milan del neopresidente Berlusconi lo porta al Milan per 5,8 miliardi di lire. E lì vince due scudetti, una Supercoppa italiana, due Coppe dei campioni, due Supercoppe europee e due Coppe intercontinentali, sotto la guida tecnica di Enrico Sacchi. Si ritira dal calcio giocato a soli 33 anni, il 17 giugno del 1992 nel match di campionato Mina-Verona finita 4-0 dove proprio Ancelotti fa una doppietta. Poi dal 1992-95 fa il vice di Sacchi in Nazionale Italiana, ma debutta come primo allenatore nel 1995 nella Reggiana, in Serie B, dove viene affiancato da Ciaschini, dove lui ancora è sprovvisto di patentino. E a fine di questa stagione arriva al quarto posto e perciò viene promosso in A. Nella stagione 1996-97 però passa al Parma e sta per due stagioni, dove al primo anno c'entra un secondo posto storico, record storico per la squadra parmense, mentre nel secondo anno arriva al sesto posto e si qualifica in Coppa UEFA. A febbraio del 1999 subentra lì Pisonerato e arriva al quinto posto, a pari punti con Roma Odinese. Con i bianconeri poi fa per due anni consecutivi due secondi posti e i tifosi lo contestano, visto che aveva giocato al Milan a Roma e non l'hanno mai accettato come allenatore. Poi nel novembre del 2001 viene chiamato dal Milan di Berlusconi al posto di Terim come allenatore e al primo anno c'entra il quarto posto ed ottiene la storica qualificazione in Champions League. E proprio grazie a questa qualificazione nel 2002-2003 vince proprio la Champions League, in finale con la sua ex squadra odiata, ovvero la Juve. E vince anche la Coppa Italia, ma il suo grande merito fu di quello di spostare Pirlo da trequartista a centrocampista difensivo, ovvero come CDC. Poi nell'anno successivo con l'arrivo di Riccardo Cacà come trequartista vince la Supercoppa Europea contro Mourinho e poi vince il primo campionato col Milan il 2 maggio del 2004 contro la Roma per 1-0 con un gol di Shevchenko. Dopo Calciopoli, Milan e Ancelotti nella stagione 2006-2007 vince la sua seconda Champions League contro il Liverpool 2-1 con la doppietta di Super Pippo Inzaghi. Poi nell'anno successivo vince la Supercoppa Europea contro Sevilla e la Coppa del Mondo per club contro il Boca Juniors. L'ultima stagione al Milan fu nel 2008-2009 dopo 420 partite sul secondo allenatore migliore come presenze dopo Nero e Rocco. Il primo luglio del 2009 arriva il Chelsea de Abramovic e al primo match ufficiale vince la Community Shield contro il Manchester United ai rigori. E al primo tentativo vince subito la Premier League il 9 maggio del 2010 vincendo 8-0 contro il Wigan e allo stesso anno vince anche l'FA Cup contro il Postmund. Poi nella seconda stagione arriva al secondo posto e viene generato a fine stagione. Il 30 dicembre del 2011 viene chiamato al PSG per sostituire con Bauré ma al primo anno dopo essere stato molto tempo in testa perde la Ligan alle ultime giornate a discapito del Montpellier guidato in attacco dal bomber Giroud. Ma al secondo anno con l'arrivo di Ibrahimović e Thiago Silva vince la Ligan con due giornate d'anticipo dopo 19 anni dall'ultima volta vinto. Il 23 giugno del 2013 arriva però la chiamata del Real Madrid e non si può rifiutare e al primo anno con i Blancos vince la Coppa del Re in finale col Barça per 2-1. I 13 giorni dopo vince la sua terza Champions League d'allenatore vincendo per 4-1 in finale dopo i tempi supplementari dove il pareggio lo agguanta proprio al novantesimo col gol di Sergio Ramos e poi dilaga nei tempi supplementari con gol di Ronaldo e Marcelo mentre in campionato arriva al terzo posto al secondo anno nel 2014-2015 vince la Supercoppa Europea e il Mondiale per club ma in campionato arriva al secondo posto così a fine stagione viene zonerato. Dopo un anno sabbatico il primo luglio del 2016 viene ingaggiato dal Bayern Monaco al posto di Pep Guardiola. Al debutto vince la Supercoppa di Germania per 2-0 col Borut Dortmund mentre il 25 febbraio del 2017 fa la sua millesima partita d'allenatore vincendo per 8-0 contro l'Hamburgo. Il 29 aprile del 2017 vince 6-0 col Wolfsburg e contro giornate d'anticipo vince la Bundesliga ovvero il Mastersale. All'inizio della stagione 2017-2018 però viene zonerato subito dopo una sconfitta nella fase a gironi di Champions League per 3-0 contro il PSG. Poi stagioni non brillanti con Napoli dove viene zonerato dopo un anno e mezzo il 10 dicembre del 2019 dopo una vittoria in Champions League 4-0 col Gen. Ma poi dopo 11 giorni dopo per il 21 dicembre 2019 arriva l'Everton e con la squadra di Toffis si piazza il primo anno al dodicesimo posto e il secondo anno al decimo posto. Poi però il primo luglio del 2021 dopo 6 anni torna nella Madrid al posto di Zidane. Il 16 gennaio del 2022 vince la Supercoppa Spagnola. Contro a Teddy Bilbao. Arriva in semifinale di Champions League contro il Manchester City e il 30 aprile del 2022 vince con l'Espagnol 4-0. E perciò con 4 giorni d'anticipo vince la sua prima Liga, l'unico campionato che gli mancava fino ad ora. Un record storico, un record che nessuno l'ha eguagliato e chissà se mai qualcuno lo eguaglierà.